Ebbene a tutti ragazzi, sono iXL9 e oggi siamo in un nuovo video di Rocket League standard competitive, il secondo episodio e questa volta siamo da soli il primo episodio l'ho fatto in compagnia con altri amici vabbè adesso iniziamo una mega partita 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 ed è iniziata la partita partita subito così madò subito subito sono veterano esperto subito abu ma gli ha fottuto il gol abu questi quelli che già si picchiano in giro uuuh vado vado venga già zero in giro di 10 secondi c'è un istituto che che questa è una con una bella dopo la doppia che abbiamo fatto in questa compagna aiuto la bolla a cura bella un tiro 3 1 che stanno dicendo tutte cose vengi mamma mia vai a se la sono parati da sola mamma mia eh liscia oh tira bella 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 tanta roba bella la stavo per il pigaio ho fatto 4 gol la sistemi è una sistema di compagno troppo forte diciamo è troppo lui ci compagno è troppo ma troppo un altro gol un altro mio assist ahah sto scrivendo soltanto un bel tiro è come quando fai un assist un altro bel passaggio poi basta questi sono i 50 messaggi stanno proprio in cazza di male due tre questo è un nome tipo ma hanno segnato scritto bel passaggio cazzo hanno segnato perché non ho scritto tank story no è bella è bella sta palla bella 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 è la p perché insieme a me ci va anche quell'altro scritto non ho scritto non sbaglio ahah cosa ho sbagliato nooo bella la piglia lui E per me questi ci recuperano. Come fa la fauna? Era semplicissima da prendere la buradenta. Bello! Meglio che non avversa come fuori. Fatta. Un tubo. Ops, il contropiede parte qui, il contropiede. No, perché la piglia? Il mio compagno segna solo, poi quello che... Ah, quello che ha segnato a 5G non sa parare qui. Mi metteranno un po' assist e parate. Qui c'è forte. Ha fatto una bella parata. Bella. Ah, bella, bella. Voi, ripiglala. Peccato. Merda. Ma tira! Che schifo! Ma tu, palo! Sì! Che azione! Io l'ho passata. Boom! Tira palo! Ritira! Gol! Ma dove? Stiamo a fare i casini? Quella patta... 1030 punti in 4 minuti. No! No! Ah! Sbagliato! Ve l'ho tolta. Per sbagli. Tanto... No! Sbagliano! Infatti... Infatti... Che fa? Ragazzi, potete dire che video si è finito qui. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e mettete un bel altro video. Bella! Sbagliato! Sbagliato!